Musica Ben trovati con l'informazione sportiva di Molise TV, in apertura parliamo di calcio di Lega Pro. Il campo basso, dopo il pareggio contro il Poggi Bonsi, inizia la preparazione in vista del difficile impegno in casa della vicecapolista Chieti. Intanto l'allenatore Edoardo Mbimbo pensa ancora alla non bella prova contro i Toscani. Ascoltiamo il servizio d'apertura. Il campo basso, nonostante la non perfetta partita contro il Poggi Bonsi, è riuscito a conquistare un punto utile alla classifica che attualmente vede i lupi con quattro lunghezze. Il rosso-blu di Edoardo Mbimbo, così come era accaduto a Mugnano contro l'Arzanese, hanno subito il gol in avvio di partita, compromettendo l'impostazione tattica provata in settimana. A tornare sull'incontro è stato il tecnico Edoardo Mbimbo. Parto dal presupposto, dicevo, di aver voluto a tutti i costi il pareggio, anche se in condizioni particolari. Quindi voglio far capire alla squadra che bisogna piano piano, anzi velocissimamente, cambiare pelle subito e capire perfettamente che la Serie C, con un minimo errore dovuto alla concentrazione, a certe situazioni ti possano condannare. Quindi mi auguro quando prima possibile. Mbimbo parla anche dell'errore del portiere Cattenari senza gettarli addosso la croce. C'è stato un errore particolare, che non voglio condannare Francesco Cattenari, che è il nostro portiere, non dimentichiamo. Sono valutazioni di tempo, di scelta, però siamo stati anche un pochettino sfortunati, che sembra al minimo errore che veniamo subito condannati. L'allenatore De Lupi ha parlato anche sul sistema di gioco, che per la prima volta contro il Poggi Bonzi ha visto il campo basso scendere in campo con il 4-4-1-1. Noi dobbiamo adattarci a più sistemi di gioco, perché se una domenica non va, gli avversari sono bravi a leggere il nostro sistema di gioco. Noi dobbiamo cambiare, quindi siamo passati al 4-3-3, siamo passati al 4-2-3-1, siamo passati al 4-2-4. Si fa di tutto per rimediare, quindi naturalmente siamo qui per lavorare, per far conoscere quanto più sistemi di gioco alla squadra. Gli errori individuali fanno parte di questo gioco, ci saranno sempre e mi auguro che qualche volta capiteranno anche gli avversari. In bimbo si è soffermato anche sulla torre del gol Daniele Sciarra, partito inizialmente in panchina. La mia non è stata una bocciatura nei confronti di Daniele. Devo dare equilibrio alla squadra, che in certe condizioni fisiche e mentali tante volte non ci sono, quindi uno degli attaccanti dovevo sacrificare. Ho toccato a lui questa settimana, sono strafelice per lui. Mi auguro che con questa rete si sblocchi definitivamente un giocatore che ha delle potenzialità importanti. Il tecnico, su specifica domanda, ha parlato anche di un eventuale ritorno sul mercato. Stiamo lavorando per sistemarci. Sicuramente con la società ci incontriamo, ne parliamo, con il direttore, con il presidente, con Gaudiano Capone. Cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Naturalmente siamo coscienti che ci sono delle situazioni particolari, giustamente. Quindi io mi aspetto quando prima il miglior campo basso possibile. Ancora calcio di Lega Pro, l'Aprilia è ancora l'unica squadra imbattuta del girone B di seconda divisione. L'attacco va a mille con 11 gol realizzati nei tre vittoriosi incontri. Il terzo successo è arrivato contro l'Aquila per 3-0, partita della quale vi proponiamo il servizio curato da Barnaba Iannelli. Parte subito forte l'Aprilia, secondo minuto, lancio per Ferrari, ottimo il controllo e conclusione senza pezzarci su due volte, palla al lato. Risponde subito l'Aquila al tredicesimo, Triarico se ne va sulla fascia destra, ottimo il pallone al centro, sul quale però non arriva nessuno. Ciotola tutto solo, tenta la conclusione, palla alta sopra la traversa. Sedicesimo, Calderini fa tutto da solo, uno contro uno con petta e ingrosso, palla dietro a Croce che tenta il jolly di giornata, il pallone però non si abbassa e finisce sul fondo. Al venticinquesimo, primo vero pericolo per la porta dell'Aquila. Calcio d'angolo di Calderini, svetta di testa di Aguitè sul secondo palo, Ferrari prolunga e rovesciata per Sembroni che mette dentro. Il direttore di gara però annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente. E' solo il preludio al gol per i padroni di casa che passano al quarantesimo, punizione di Croce sul primo palo, modestina un po' nulla ed è forse un po' in ritardo sulla conclusione. 1-0 Aprilia, applausi del pubblico laziale, davvero bella l'esultanza di Croce che si gode il meritato vantaggio con i supporters biancocelesti. Sul finale di primo tempo arriva però la reazione dell'Aquila, pessima l'uscita a vuoto di Di Vincenzo, in prota costretto a defilarsi, lascia la conclusione a Triarico. Il portiere laziale si rifà e compie il miracolo. Nella ripresa ci si aspetterebbe l'Aquila più pimpante ma così non è. L'Aprilia ne approfitta e raddoppia al decimo, piattone di Triarico per Marfisi che deve solo metterla dentro. 2-0 è partita già chiusa dalle prime battute del secondo tempo. E' Aprilia a show a Ricci, Sessano pesca sul filo del fuorigioco Calderini, si supera Modesti. Due minuti più tardi c'è solo una squadra in campo e si vede. Doppio passo di Triarico sulla destra, palla dietro verso Sessano che cerca uno spiovente dentro l'area di rigore. Calderini non ci arriva, Ferri Marini sì, ma l'arbitro annulla la seconda rete di giornata all'Aprilia, sempre per fuorigioco. Nel finale arriva il Tris, corsi serve Ferri Marini, numero dell'attaccante bianco celeste suppomante. Modesti non può nulla sui limiti difensivi dei suoi ed è 3-0. Finisce così, l'Aprilia si conferma la squadra da battere nel girone. 11 gol siglati in sole tre partite, fanno dei laziali il biglietto da visita per le compagini avversarie. Rimandata invece l'Aquila, troppo discontinui nei risultati e solo i tre punti in classifica. Gli abruzzesi proveranno a arrivarsi domenica prossima in casa contro il Fondi. Iniziano oggi le nostre rubriche e la volta di chi sale e chi scende, in riferimento ai risultati sportivi dell'ultimo fine settimana. La rubrica è curata da Fabiola Minadeo. Vediamo. I campionati come la vita si sa sono fatti a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Sale il campo basso che a Selvapiana contro il Poggi Bonzi ha pareggiato per 1-1, andando in rete in piena zona Cesarini. Dopo la Bloody Sunday, la domenica sanguinaria della scorsa settimana, dove duele ricordare il bruciante 3-0 di Mugnano subito contro l'Arzanese, il lupo tra le mura amiche con grinta e cattiveria fa il possibile per impattare e mettere in cassaforte almeno un punticino. Ah, campo basso, come canta un famoso tormentone estivo, tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah, che bellezza, ah, che dolore. La stagione è lunga, c'è ancora tempo per sentire l'ululato del vero lupo. Sale l'Olimpia agnonese in vetta alla classifica di Serie D, Girone F, Alcivitelle e Granata hanno piazzato un poker al Città di Marino, che ha tentato il race, ma è uscito timidamente di gioco all'All-in vincente della squadra di casa. 9 reti realizzate in 3 partite e primato di imbattibilità. Ottimo al momento il carnet dell'11 di Urbano. Domenica derby in casa del Termoli. Si modificherà il curriculum altomolisano? Nel massimo torneo regionale sale il Boiano. Calcola Lillo rifila 4 sbelle alla matricola Roccaravindola. Bottino pieno per i biancorossi. Buona la prima e anche la seconda. Scende il campo basso 1919. Un sabato da dimenticare quello vissuto dai rosso-blu, scesi per la prima volta in questa stagione sul terreno da gioco del neoagibile antistadio Selvapiana per affrontare un cattivissimo sesto campano. Il team di Mr. Mancini ha neutralizzato le forze dei padroni di casa e le ha spediti negli spogliatoi sul punteggio netto di 3-0. Ah, che male! Scende, sprofonda il Montenero. Un inizio di campionato avverso alla squadra di Rallopizzi che si è ritrovata già ad affrontare i due big del torneo, il Fornelli e la Turris. Due sconfitte in cassaforte su due incontri giocati. Erano quasi in preventivo. Attenzione, la partenza di Isel lascia indietro. Va giù anche il Venafro, sconfitto in casa dal Fornelli. Bianconeri nella gara inaugurale hanno messo a segno un pareggio a gamba tesa, ma nell'anticipo di sabato del Marchese del Prete hanno ceduto sotto il peso del Fornelli che li ha cotti a puntino lasciandoli a bocca asciutta. Domenica saranno attesi al 20.000. Coraggio! Calcio di Serie D. Il Termoli a Iesi ha recuperato una partita quasi persa dimostrando carattere e forza di volontà. Domenica Alcannarsa, che si preannuncia colmo in ogni ordine di posti, arriverà la capolista olimpia agnonese e il servizio di Fabiola Minadeo con le dichiarazioni del presidente giallorosso Nicola Cesare raccolte nella sala stampa di Iesi. Ascoltiamo. Un pareggio rocambolesco, quello conquistato dal Termoli sul terreno di gioco della Iesina. Dopo aver dominato sui padroni di casa fino ai primi minuti della ripresa, i giallorossi hanno rischiato di mandare tutto all'area in un quarto d'ora di follia, ma la tenacia ha portato il team guidato da mister Giacomarro a mettere comunque un punto in cassaforte. Siamo tornati sull'analisi dell'incontro con il presidente della squadra adriatica, Nicola Cesare. Penso che il pareggio sia il risultato giusto, insomma. Abbiamo, secondo me, dominato la partita fino al quarto d'ora del secondo tempo, poi la Iesina è venuta comunque giustamente fuori pareggiando. Poi la partita è stata condizionata da quell'episodio che chiaramente ci ha messo in grande difficoltà. Abbiamo dovuto togliere un difensore e quindi iniziare a rischiare per pareggiare. Secondo me, a qualche minuto dalla fine, c'era pure un rigore netto su D'Angelo che ci poteva consentire di pareggiare. È stato il secondo episodio che, secondo me, ci ha danneggiato da un punto di vista arbitrale. Poi credo che abbia avuto una grande reazione e un pareggio, credo, assolutamente meritato. Al Patron dei Giallorossi abbiamo chiesto un bilancio di queste prime tre giornate di campionato nelle quali il Termoli ha collezionato una sconfitta, una vittoria ed un pareggio, rispettivamente con la Strea, con il San Cesareo e in ultimo con la Iesina. Un andamento di certo discontinuo, ma caratterizzato da leitmotiv della voglia di fare da parte degli uomini di Giacomarro. Delle tre partite è stata la migliore partita. Iniziamo a vedere una squadra equilibrata, una squadra che, ribadisco, fino all'1-1 mi sembra che abbia meritato la vittoria. Abbiamo da migliorare, probabilmente abbiamo sistemato la difesa, abbiamo, dal mio punto di vista, da migliorare in attacco. Era una partita da chiudere e da non andare in sofferenza, al di là dell'errore arbitrale. Il ritorno del Termoli nel calcio che conta porta con sé varie aspettative, sia da parte degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto da parte dei tifosi, che vogliono vedere trionfare i propri beniamini. Al presidente Cesare abbiamo chiesto cosa ci si può aspettare dal suo Termoli, che soltanto due anni fa, all'inizio della sua gestione, militava nel calcio di promozione e ad oggi affronta squadre di rilievo come l'Ancona e la Civitanovese. Io sono presidente da un anno, due anni fa eravamo in promozione molisana. Voglio dire, abbiamo allestito una squadra, secondo me, competitiva, però per 22-24esimi nuova. Quindi, insomma, abbiamo da rodare meccanismi, da stare tranquilli, insomma, e da andare avanti. Vedo, lo dico così, insomma, senza polemizzare, anche se io sono un tifoso della mia squadra, come si sente dalla mia voce, che oggettivamente sono due volte già che veniamo penalizzati, insomma, già l'espulsione di Maione nella prima, dopo 25 minuti, insomma, ci ha penalizzato con la strea e oggi pensiamo che, insomma, l'arbitro non era nemmeno vista quella palla, una palla, secondo il mio portiere, quindi riporto le sue parole, fuori di più di 30 centimetri, insomma, non si può dare il gol e cambiare una partita così. Altrimenti credo che, ma anche l'arbitraggio, da quel punto di vista, sia stato comunque un buon arbitraggio, però gli episodi nelle partite contano. Siamo contenti, perché avevo visto la Iesina fare una grande partita con l'Ancona e siamo venuti molto preoccupati. Uscire da qui, comunque, alla fine, con un buon pareggio, ci rende fiduciosi per il futuro. Domenica, il Cannarsa andrà in scena il primo derby della stagione tra i padroni di casa e l'Olimpia agnonese. I Granata, ancora imbattuti, faranno visita agli Adriatici in quella che si prospetta essere una accesa contesa, ma sicuramente anche una bella giornata di sport. Ancora calcio di Serie D, si gode il buon momento l'Olimpia agnonese in vetta alla classifica. Dopo tre giornate di campionato, la squadra di Urbano inizia intanto a preparare il sentito derby di Termoli. La soddisfazione dell'allenatore Corrado Urbano nell'intervista realizzata da Daniele Petricca. Ascoltiamo. Corrado Urbano, tecnico dell'Olimpia agnonese, insomma, tre gare, sette punti, ci aveva pensato all'inizio del campionato? Forse è un pensiero proibito. Ma in maniera più assoluta, insomma, abbiamo messo sette punti in classifica che più di così non potevamo fare. Siamo contenti perché sono punti che ci ritorneranno utili nei momenti difficili, ma sempre con i piedi per terra perché siamo soltanto alla terza partita di campionato e questo è un campionato molto difficile. Il campionato sicuramente sarà difficile, le laziali sono quelle più attese perché lo scorso anno c'erano le romagnole, oggi ce n'è stata una. Cosa è mancato forse nella prima parte di gara, meglio nella ripresa dei ragazzi? Diciamo che l'Ordra era una squadra molto giovane, aggressiva. Noi allo stesso tempo non abbiamo avuto un approccio proprio ottimo, più di qualche volta abbiamo giocato con sufficienza, ma ciò nonostante siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio, abbiamo rischiato è stato bravo Esposito sull'1-0 per noi a sventare un'occasione pericolosa, l'unica di tutta la partita che loro hanno creato e poi dopo siamo riusciti a chiudere il primo tempo sullo 2-0 anche secondo me non è stata la migliore, il nostro primo tempo non è stato uno dei migliori mentre poi il secondo tempo la squadra è stata più aggressiva anche contro il vento, siamo riusciti a gestire palla, loro ci hanno lasciato un po' il fianco perché come è giusto che sia una squadra giovane che ha cercato in tutti i modi quantomeno di cercare di accorciare le distanze ci hanno lasciato gli spazi e noi sugli spazi abbiamo fatto male. Avete fatto molto molto male perché oggi come intensità di gioco l'Agnonese è venuta fuori bene si pensa già a domenica mister perché insomma c'è questo derby ci si gode il successo ora però è chiaro che avere un derby alla quarta giornata e andare a Cannarsa con un termoli così oggi non ha fatto un grandissimo risultato però insomma c'è grande attesa. Dalla parte nostra c'è entusiasmo il fatto che siamo partiti bene crea consapevolezza nei propri mezzi crea entusiasmo però ci deve essere anche l'umiltà la consapevolezza che stiamo facendo al di là di ogni più rosa previsione stiamo andando oltre quelle che sono le nostre possibilità forse però sfruttiamo questo momento sappiamo che Temmoli è una squadra forte non lo so cosa abbia fatto oggi però credo che noi ce l'andiamo a giocare con la consapevolezza che è un derby e che la squadra avversaria è composta da giocatori importantissimi per la categoria Ultima notazione su Gaudino insomma il portiere l'agnonese opta per l'under oggi Esposito ha fatto vedere che si può fare una scommessa possibile quindi probabilmente questa sarà il sale trend anche per quest'anno per la vostra squadra? Noi abbiamo avevamo fatto un tipo di scelta che poi strada facendo ci siamo accorti che probabilmente il gioco non valeva la candela abbiamo optato per ritornare a giocare con l'under perché significava tenere fuori giocatori esperti del calibro di Pifano di Litterio di Scampamorte adesso c'è Jacopo Esposito in porta siamo a cerca di un altro portiere 92 Gaudino non lo so adesso che cosa succederà con la società però con i ragazzi ho parlato chiaro non oggi ma già erano da 15-20 giorni che gli avevo prospettato questa situazione e gli avevo detto che la mia idea era quella di ritornare a giocare con un under E allora mister insomma domenica c'è il derby l'Agnonese ha vinto oggi vento in poppa 7 punti va tutto benissimo va tutto bene però ribadisco rimaniamo con i piedi per terra perché oggi abbiamo affrontato una squadra che in questa settimana ha avuto un po' di problemi qualche giocatore importante non ha partecipato alla gara noi siamo stati bravi a vincerla perché non è mai facile vincere diciamo che 7 punti in classifica ci ricordiamo tutti però siamo consapevoli di a che cosa andiamo incontro Ancora calcio di Serie D riprende gli allenamenti l'Isernia Football Club di mister Francesco Farina che va a caccia ancora del primo successo stagionale i Bianco Celesti dopo il buon pari di Teramo contro il San Nicolò domenica riceveranno gli abruzzesi della Miternina nel corso del test amichevole di giovedì Farina proverà la squadra titolare che sarà priva dello squalificato panico in compenso rientrerà l'attaccante Arteaco assente nelle ultime due giornate di campionato e parliamo adesso di calcio a 5 di Serie B venerdì alle 17 presso l'hotel l'Isernia dei presidenti Nicola Cesare e Antonio Di Franco ai nastri di partenza del campionato di Serie B di Futsal si presenteranno a stampa e tifosi sono stati invitati tra gli altri il presidente della FIGICLN di Molise Piero Di Cristinzi e il delegato regionale del calcio a 5 Fabio Petta oltre alla rima squadra saranno presentate anche le due formazioni under 21 la squadra regionale e la squadra nazionale parliamo adesso di calcio regionale si gioca domani la terza e ultima giornata dei mini gironi del primo turno di Coppa Italia riservata alle squadre dei due massimi campionati molisani vediamo con la grafica gli incontri in programma e le relative classifiche passeranno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone per quanto riguarda il raggruppamento A Cliternina Rocca Sicura e sesto campano calcio dauna in classifica a guidare c'è il sesto campano con 6 punti 3 Rocca Sicura 1 calcio dauna e Cliternina girone B domani in campo Vinchiaturo Santeliana e Venafro Sessano in classifica a guidare c'è il Sessano con 6 punti 3 per Venafro e Santeliana 0 il Vinchiaturo girone C Alife Castelmaro e Montenero Maronea guidare c'è l'Alife con 4 Montenero 3 Maronea 2 Castelmaro 1 punto girone D Biferno Riccia e Turris Rocca Lavindola Rocca Lavindola 6 Turris e Riccia 3 Biferno 0 girone E Toro Vairano e Vasto Girardi Sant'Angiolese a guidare c'è il Vasto Girardi con 4 Toro e Sant'Angiolese 2 Vairano 1 punto girone F Boiano Cerrese e Montaquila Campo di Pietra a guidare c'è il Boiano con 6 punti 3 per Campo di Pietra e Montaquila 0 la Cerrese girone G Ripa Limosani Bussese e Fornelli Pozzilli Fornelli 6 punti Bussese Pozzilli 3 Ripa Limosani 0 punti ultimo mini girone Campo Basso 1919 Gambatesa Roseto Roccavivara in classifica Campo Basso 1919 6 punti 4 Gambatesa 1 punto per il Roccavivara chiude la classifica il Roseto a quota 0 e parliamo di calcio di eccellenza il Boiano domani in Coppa Italia come abbiamo visto riceverà al Colalillo l'acqua viva Cerrese domenica invece ci sarà il primo test importante a Sesto Campano ai nostri microfoni l'allenatore Gigi Carosella nel servizio di Barnaba Iannelli ascoltiamo il Boiano il Boiano supera per 4 a 0 il Rocca Ravindola all'esordio casalingo si conferma dopo le prime due giornate in testa a punteggio pieno nel campionato d'eccellenza Molisano avvicinato i microfoni nel post gara il mister Matesino Carosella mister Carosella una vittoria per 4 a 0 che vi lancia in testa al campionato d'eccellenza dopo solo due giornate si vabbè però a pari punti con ben se non sbaglio due o tre squadre il Sesto il Fornelli niente noi dobbiamo pensare soltanto a vincere partita per partita la squadra si è mossa molto bene sul terreno di gioco sua la perla del 3 a 0 di Tacco veramente un gol incredibile no vabbè io ho voluto dare un quarto d'ora di riposo agli abboni perché avevano una piccola contrattura quindi non l'ho voluto rischiare quindi niente adesso dobbiamo pensare alla Coppa Italia senza sicuramente mi devo risparmiare gli abboni Valle Fuoco per la partita per andare con tranquillità a Sesto come vede il Sesto Campano si può già parlare di uno scontro ai vertici alle zone alte della classifica ma l'ho vista ieri a Campobasso mi ha fatto una buona impressione ci hanno un buon gruppo la cosa che mi ha impressionato è che sono abbastanza compatti visto che considerate che loro sono due o tre anni che giocano tutti assieme quindi il loro forte è il gruppo buona l'alternanza dei suoi attaccanti lì davanti Iabboni Bernardi Berardini anche lei quando entra nel terreno di gioco lascia sempre il segno soprattutto con la realizzazione di oggi è inutile nasconderci ma vabbè io non penso al discorso dei gol penso alle giocate buone che abbiamo fatto oggi e da considerare che ci abbiamo ancora Grillo squalificato nell'ultima domanda posta al mister Biancorosso sull'obiettivo del salto di categoria l'allenatore non si scompone e indica le due principali rivali del campionato sì ce la possiamo giocare perché io ieri ho visto sia il sesto che il campo basso quindi è alla nostra portata domenica prossima il Boiano andrà a caccia dei tre punti per mantenere la testa della classifica e il morale alto nei tifosi matesini e la Turris nonostante la partenza estiva in ritardo sembra già essere in forma a campionato due partite altrettanti successi e domani Santa Croce si giocheranno in Coppa Italia contro il Rocca la Vindola per cercare il passaggio del turno Edmondo Somma ne ha parlato con l'allenatore Claudio Castaldi ascoltiamo vincere a Montanera non è mai facile 4 a 0 nel risultato che conferma crescita e ambizioni della Turris mister Castaldi una vittoria che continua a dare morale a questa squadra che fa crescere condizione e voglia di vincere la squadra cresce da ottimi risultati sul campo o una Turris che vuole giocarsi il campionato a viso aperto ma questa vittoria ci voleva ci voleva perché avevamo bisogno di un risultato così roboante perché abbiamo bisogno di autostima abbiamo bisogno di crescere di credere in noi stessi diciamo che il primo tempo l'abbiamo fatto veramente bene sono contento di come si è espressa la mia squadra sono d'accordo con te qui in passato io ho sempre sofferto e vincere qui non è mai facile vincere come abbiamo vinto noi sicuramente ci fa credere in noi stessi qualità esperienza ma anche gioco e singoli insomma da una sfida di Montenero la Turris prende tante risposte positive indubbiamente è così ripeto abbiamo bisogno di questo risultato così altisonante perché abbiamo bisogno di credere in noi stessi noi purtroppo abbiamo steccato la prima in Coppa Italia questo ci ha un po' depressi quindi avevamo bisogno di questo risultato ma al di là poi del risultato in se stesso della buona prestazione a mio avviso abbiamo giocato molto molto bene il primo tempo questo ci fa capire che abbiamo ambi margini di crescita ancora se consideriamo che abbiamo gente del calibro di Scarpato di Longo fuori quindi diciamo siamo fiduciosi per il proseguo il tempo è galantuomo avete cominciato tardi la preparazione gli ultimi giocatori sono arrivati praticamente la stagione è già abbondantemente cominciata insomma c'è tempo ci vuole tempo e pazienza per amalgamare un gruppo comunque di qualità sì ma noi eravamo consapevoli di questo è chiaro che purtroppo è meno male noi ci chiamiamo Turris quindi chiamarsi Turris non è mai facile comporta delle responsabilità non è facile aspettare la gente non aspetta però purtroppo noi abbiamo iniziato tardi oggi è un mese che abbiamo oggi fa un mese che abbiamo iniziato e a distanza di un mese ci stiamo esprimendo alla grande il campionato conferma le squadre che puntano a vincere questa stagione qualche sorpresa magari arrivano negli anticipi ma c'è ancora una stagione sarà una stagione lunghissima per vedere chi punterà la Serie D sì vabbè ma gli anticipi hanno detto che il sesto campano c'era il sesto campano c'è il sesto campano sappiamo tutti che la solita squadra tosta che darà fastidio dall'inizio alla fine io quest'anno la vedo molto molto accreditata e poi naturalmente ci sono le altre c'è Fornelli che va alla grande il Boiano che va alla grande ci siamo noi noi vogliamo essere protagonisti insieme a queste qua poi vedremo alla fine chi avrà ragione ancora calcio di eccellenza anche il Fornelli è partito nel migliore dei modi e nell'ultimo turno è spugnato Venafro domani in Coppa gara casalinga contro la Virtus Pozziglia ai nostri microfoni l'allenatore bianco verde Fernando Coletta siamo con Coletta tecnico del Fornelli 10 minuti di follia del Venafro determinazione cattiveria agonistica Fornelli-Corsaro tre punti importantissimi nel carniere stavo dicendo pure prima che abbiamo fatto una brutta prestazione soprattutto al primo tempo abbiamo concesso troppo non siamo stati all'altezza non abbiamo pressato non abbiamo abbiamo combinato poco comunque poi al secondo tempo con una sgridatina nello spogliatoio in pratica abbiamo reagito abbastanza bene nella ripresa c'è stato l'innesto di Vitelli che sicuramente ha dato più profondità la squadra è salita però mancava negli ultimi 16 metri poi fortunatamente l'albitro ci ha messo di suo e calcio di rigore con qualche contestazione vi ha sbloccato il risultato ci ha messo di suo non lo so perché sinceramente il rigore se c'era stava vicinissimo l'albitro e secondo me ha visto bene però io sono dissoddisfatto del secondo tempo perché abbiamo reagito bene anche perché ci servivano i tre punti sappiamo che qua è un campo che è ostico sono dei ragazzi però se la battono e per noi erano importanti questi tre punti Venafro ha contestato ovviamente su quella decisione arbitrale gli estremi dei rigori c'erano quindi si poteva dare quel calcio di rigore però poi dopo forse ha perso la testa il portiere insomma una squadra così giovane ha pagato forse quell'espulsione e dici il portiere l'oro sì va bene fa parte del gioco se uno protesta poi esageratamente applicano il regolamento e l'arbitro e va discapito l'oro noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare ripresa sicuramente meglio cosa di buono si può portare a parte il risultato ovviamente per la prossima partita il dirigente Diego Lombardi ha detto che con la Turris vorrete arrivare a bottino pieno insomma è una bella sfida questa Turris comunque sta ancora lontano noi dovremmo giocare ancora mercoledì dobbiamo giocare domenica dobbiamo giocare l'altra domenica ci stanno altre partite io non ci sto pensando noi pensiamo partita per partita perché è importantissimo noi vogliamo vogliamo lottare sul campo partita per partita non sto pensando alla Turris sto pensando già al Pozzigli per mercoledì e oltre al Fornelli anche il sesto campano si pone come l'outsider del campionato di eccellenza dopo le serie tirifilate all'esordio in campionato contro la Maronea nell'ultimo turno i biancorossi hanno asfaltato il campo basso 1919 segnando ben tre gol nel capoluogo di regione Fabio Laminadeone ha parlato con il player manager Vittorio Mancini ascoltiamo Vittorio Mancini player manager del sesto campano una vittoria schiacciante per tre reti a zero contro il campo basso 19 in questo big match della seconda di campionato si sapevamo che oggi era una partita difficilissima sapevamo di incontrare giocatori di categoria superiore non a caso abbiamo preparato al massimo la partita in settimana e merito ai ragazzi che hanno messo in campo tutto quello che abbiamo preparato diciamo abbiamo avuto una partenza abbastanza rilenta ai primi 20 minuti poi piano piano siamo usciti fuori e siamo stati bravi al centro del campo ad essere aggressivi e nel ripartire con i tempi giusti con i nostri tre attaccanti dove poi siamo riusciti a fare i tre gol come diceva lei una prima fase di studio tra le due formazioni che si è definitivamente chiusa con i due gol arrivati nell'arco di tre minuti da lì è stato possiamo dire solo sesto campano sì diciamo che per nostre caratteristiche anche per come è stata impostata la preparazione durante il periodo estivo è quella di venire fuori alla lunga non al caso diciamo dopo i 20-30 minuti siamo usciti fuori e pian piano siamo stati padroni del campo e fino al novantesimo abbiamo fatto un pressing abbastanza alto dove diciamo potevamo fare anche qualche gol in più però sono soddisfatto così di tutta la prestazione dei ragazzi se le aspettava una vittoria così netta contro un'ottima squadra qual è quella del campo basso 1919 ma io diciamo sono consapevole di tenere un'ottima squadra e nel momento in cui la mia squadra è concentrata e determinata posso fare risultato con chiunque quindi diciamo mi aspettavo un risultato così netto probabilmente no però credevo nella vittoria perché credo nei mezzi che hanno i miei ragazzi e per quanto riguarda gli obiettivi di questa stagione volete riconfermare il buon piazzamento dello scorso anno l'obiettivo sono sempre i playoff diciamo l'obiettivo principale è la salvezza poi cercheremo di raggiungere gli obiettivi che sono quelli dei playoff però è ovvio adesso è ancora presto per definire un bilancio della stagione anche perché siamo la seconda giornata e domenica giocheremo già contro un'altra grande squadra che è il Boiano però è ovvio aspettiamo che finisca almeno il girone di andata per poter poi tirare le somme e chiudiamo con alcune notizie Pompeo Barbieri atleta della Termolinuoto e punto di forza del Comitato Paralimpico Italiano per il secondo anno consecutivo si è giudicato la borsa di studio Angelo De Bernardo messa in palio dal Coni Molise e dalla ditta Giocagio la prima azione ci sarà il prossimo 18 ottobre per quanto riguarda invece il tennis tavolo il boianese Romualdo Manna ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo top 16 disputatosi a Torino risultato importante visto che al torneo hanno preso parte i 16 pongisti più forti d'Italia per quanto riguarda invece il podismo a Esernia domenica scorsa ci sono stati due eventi 650 atleti hanno preso parte alla Corrisernia vinta dal keniano William Kibor mentre Giulia Viola delle Fiamme Gialle ha trionfato tra le donne dopo la Corrisernia si è svolto anche il trofeo del Matese vinto dal keniano Paul Sugut che ha preceduto l'atleta di Campochiaro portacolori delle Fiamme Gialle Andrea Lalli bene questa era anche la nostra ultima notizia io vi ringrazio per la cordiale attenzione vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni di Molise TV per lo sport l'appuntamento e alle prossime edizioni a presto leazioni